In questa lezione, abbiamo un'altra occasione per capire la differenza nel formare le frasi tra la lingua tedesca e quella italiana, attraverso un dialogo tra una casalinga e una segretaria. Essendo il dialogo abbastanza lungo, l'ho diviso in quattro parti, e vi consiglio di riascoltare ogni singola parte, almeno un paio di volte. La mia famiglia è Dio, e si rega all'ufficio del programma televisivo per prenotarsi come candidata, arrivata all'ufficio bus alla porta. E le risponde la segretaria, frau Chanel. Ja, bitte? Si, prego. Scusi, è qui l'ufficio di, la mia famiglia è Dio? Ja, hier sind sie richtig. Bitte nehmen sie Platz. Si, qui sono loro, giusto. Prego, prendano loro posto a sedere. In italiano, quando non conosciamo una persona, le diamo del lei. Quindi, se ad un amico diciamo, prendi il tuo posto, ad uno sconosciuto diciamo, prenda il suo posto. In pratica, nel rivolgerci a uno sconosciuto, noi in italiano usiamo la terza persona singolare, mentre in tedesco si usa la terza persona plurale. Ad esempio, entri lei. In tedesco dicono, entrino loro. Noi diciamo, si segga lei. In tedesco dicono, si seggano loro. Loro sono così, una candidata per mia famiglia Dio? Per dire, si candida per la trasmissione la mia famiglia Dio? Si, io vedo ogni giorno da tempo, e io trovo lo show tutto fantastico. Io faccio molto divertente partecipare. Schön. Wie ist ihr Name, bitte? Bello. Com'è il tuo nome, prego? Mein K. Mein K. Ist das ihr Vorname? È questo il vostro nome? Nein, das ist mein Familienname. No, questo è il mio cognome. Und ihr Vorname? E il vostro nome? Irene. Irene. Also, Irene Mainka. Wie alt sind Sie, Frau Mainka? Quindi, Irene Mainka. Quanto vecchia è lei, Signora Mainka? Per dire, quanti anni ha, Signora Mainka? Ich bin 34 Jahre alt. Io sono 34 anni vecchia. Per dire, ho 34 anni. Und was sind Sie von beruf? E cos'è lei di professione? Per dire, qual è la sua professione? Io sono infermiera, ma ora lavoro io non. Al momento, sono io casalinga. Per dire, faccio l'infermiera, ma ora non lavoro. E faccio la casalinga. Und wie ist Ihr Familienstand? E come è suo stato civile? Wie bitte? Come prego? Sind Sie verheiratet? Sono loro sposata? Sì, sì, naturalmente. Naja, so naturalmente ist das doch nicht. Bene, sì, così naturalmente. Questo tuttavia non è. Aber die show heißt doch meine Familie und ich. Ma lo show si chiama tuttavia la mia famiglia e io. Richtig. Sie sind also verheiratet. Haben Sie auch Kinder? Giusto. Sono loro così sposata. Hanno loro anche figli? Per dire, giusto. Quindi lei è sposata. Ha anche dei figli? Ja, zwei. Sì, due. Haben Sie vielleicht ein Foto? Hanno loro forse una foto? Per dire, ha una loro foto? Natürlich, hier. Das ist meine Familie. Mein Mann, meine Tochter Beate und mein Sohn Stefan. Naturalmente. Qui, questa è la mia famiglia. Mio marito, mia figlia Bete e mio figlio Stefan. Sehr hübsch Ihre Kinder. Wie alt ist Ihre Tochter? Molto carini, suoi bambini. Quanto vecchia è sua figlia? Zehn Jahre. Dieci anni. Und ihr Sohn? E suo figlio? 8 Otto Ciao. Ciao. Grazie per la visione!